Guarda che bello Bellissimo, sei stato bravo, hai la tua foca che ti protegge dalle zanzate No BOOM amici di Unpat per 2, bentornati a un nuovissimo video Oggi andremo a vedere un nuovissimo, cioè mica tanto, non l'hanno comunque rilasciato Però andremo a vedere un nuovissimo per noi fun game Che si chiama The Glitched Attraction Allora The Glitched Attraction è questo fun game che abbiamo trovato di recente Ma che in realtà c'è una demo che circola già da un po' Doveva uscire il 16 settembre ma giusto oggi è stato rinviato Perché gli sviluppatori hanno detto di non essere pronti e di non voler proporci un prodotto Che non sia all'altezza di quello che si aspetta alla gente E dunque intanto ci giochiamo la demo, loro sono Powerline Studios E da quello che si è visto sembra essere molto molto interessante Anche perché fa un mappazzone di tutto quello che c'è stato fino adesso in FNAF Un mappazzone La lore è la seguente C'è questa attrazione che è una sorta di escape room da cui noi dobbiamo scappare E ci viene detto che dobbiamo proprio scappare da quegli animatronics così popolari e così sicuri Di Fazbear Entertainment Che a quanto pare sono stati risistemati Il nostro compito è risolvere degli enigmi e Ma respiri? No Pronti babies? Go! Play! Allora VSD to move it to interact F per la torcia Control per abbassarsi E Q per quando ti spaventi Che è? Non è il modo Tutta l'IVR proprio comunque Sì Allora guarda nelle finestre E premi E per tenerle chiuse Golden Suit La tuta dorata Ok Guardando la tuta premi E per mettertela Nella tuta premi spazio per bloccare e sbloccare le spring locks Perché mai dovremmo? Ed essere così nascosto totalmente Dov'è la tuta? Tomorrow is another day La box di FNAF 4 È proprio lei! C'è tutto C'è tutto C'è tutto ragazzi Hanno fatto un lavoro magistrale Tic tac Complete the puzzle and get out of the room before time runs out Va bene quindi abbiamo due compiti Nasconderci all'interno della tuta d'oro E chiudere la finestra con E I giocattoli di FNAF 4 E questo? È bellissimo Questo è veramente bellissimo Mi piacerebbe Five days until the party Eh vabbè Ma che bello Eh vabbè Ma che bello Bellissimo Ok Tic tac Oh Oh signore No ragazzi Ah che cosa? Oh Eh dovresti nasconderti Ma mi sa che non so Oh Si guarda Ce la mettiamo a pezzi No Ok Credo che Balloon Boy Si debba Balloon Boy Credo vada fissato Allora a questo punto Oh 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 Balloon Boy Ah ok Si triggera E a Balloon Boy Ci siamo arrivati Ah Ah Fermo così Proviamo a restare Balloon Boy Eh Non funziona In che senso? Fredo Oh Eccolo Eccolo Cos'è Tipo la slot machine Di chi ti può uccidere Devi fissarlo Secondo me Ecco la torcia Bisognava puntargli la torcia Nel ponte Per farlo andare via È l'unica Vedi che se ne sta andando Ah Madonna Spazio Spazio Per lock Unlock The spring locks Per essere completamente Hidden Ah E quindi tu non schiacciavi space Questa se la toglieva di continuo Capito? Guarda prova Ah Si però Però Trigger boy Fredo Trigger boy Trigger boy Eh zio Ti devi calmare Ti devi calmare Capito Fredos Fredos Oh Che bella questa cameretta Con un buco Nella parete Proprio una bella casa Dove Ah beh la porta Ah Ah Devi chiuderlo No Chiudilo Se n'è andato Se n'è andato Ok Ok Lui stava già tremando Perché Quella cosa non gli andava bene Va bene Comunque si È totalmente procedurale Nel senso che Non abbiamo Chiudilo Le cose accadono Totalmente a caso Se n'è andato Non puoi aprirlo Oh Lock Dici che così Duale Ok Slock Ok Ok Dai Bene Oh Ma noi nel frattempo Dobbiamo risolverlo Ho capito Io no Siamo stupidi Perché Perché noi abbiamo un puzzle Da risolvere Io pensavo che il puzzle Forse la Sopravvivenza E invece no Abbiamo due minuti Il puzzle Oddio Oh guarda BB Ok Finestra Ok No 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 Che cosa E così Come si fa Ok Va bene Ora sappiamo cose Quindi la prima cosa Che facciamo È mettere a posto La faccia di Freddy È così E quindi ci manca Un pezzo Perché darti Un pezzo mancante Oh Te l'avevo detto Maledizione È una cosa davvero Cattiva Una chiave È una chiave Dobbiamo prenderla Due chiavi Allora Va bene Dobbiamo trovare Questo pezzo qua Abbiamo delle chiavi Non sappiamo Prendere in mano Delle chiavi Quindi Abbiate pazienza Eccola Una chiave E La box No Sì 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 È per la box Ok E Secondo lucchetto Molto bene È aperto Fai e Per l'ultimo pezzo Del puzzle Andiamo a metterlo lì E io Non es Esatto Bravo Tieni d'occhio Mi raccomando Non è che non si noti Però sai Non si sa mai La faccia di Freddy A posto Ok 876102 Dove lo dobbiamo mettere? No Ma dai No 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 È grosso Come un palazzo Non si sente Ok Ricordiamoci che esiste Ballon Boy Scopriamo cosa succede Quando finisce il tempo Oh Nightmare on No Quando finisce il tempo Arriva Bonnie Cerchiamo subito Le chiavi Fateci No Va bene Va bene Ok 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 Non ti distra Ce l'abbiamo No Velocissimo Due chiavi in un cassetto Ragazzi qua Ok Ok Si è smosso Si è smosso Presto Presto 3 1 8 8 7 8 3 1 8 8 7 8 E ma Signore Prendi cosa Eh per aprire Oh Oh Sei calmo Ok Dobbiamo aprire questo Vicino ai chiodi Ok Si sono bravissima No No Che tensione enorme Ma posso prendere le martellate No Te ne devi solo andare Cosa sta succedendo No E adesso Via Dovevi scappare Porca vacca 5 8 2 Ok Bella la fisica Bella Bravi Ora devi scappare Eh Lo so Ok C'è la porta Aspetti questa porta Passi sotto la porta Vai dritto Non ti Non ti Un attimo La sveglia Ok No E' finita la demo Molto bello Da sistemare parecchie cose Per quanto riguarda l'audio Semplicemente l'audio Si Però Però è una gran figata Ragazzi Purtroppo non uscirà il 16 di settembre Ma uscirà un po' più avanti Ancora non è stato detto quando Ma Speriamo presto Perché c'è L'andazza è molto Molto interessante Detto ciò Iscrivetevi al canale Condividete il video Diteci cosa ne pensate anche voi Se l'avete già giocata Se la dovete ancora provare Se aspettate il gioco Mi raccomando E ci vediamo A un prossimo video Iscrivetevi al canale